Ciao ragazzi, in questo nuovissimo video, questo oggi andremo a fare, cioè niente, e seguo figli, non servono niente, bye bye, cioè si servono, vabbè, non fa niente. Allora, in questo video sono qua per dire una cosa, che io prometto che se voi mi portate, cioè se superate, almeno i 11 like, cioè i 11 iscritti, io vi porterò, anzi vi porto, o vi porterò, basta che superate i 11 iscritti, vi porterò dei video di Florislava, e altre cose, sempre, cioè le Florislava nei supermercati, in piazza, nel parco mio, e qua che ci diente, o altre cose.